Ciao ragazzi, voglio anche io contribuire e fare la mia parte, aiutando voi pallantisti a casa, magari con esercizi di tecnica individuale, aiutandovi a mantenerla e a migliorarla in alcuni casi. Nei prossimi video vi farò vedere gli esercizi che potete tranquillamente fare nel vostro saluto di casa. Cercate un punto fisso nella vostra casa e legate il vostro elastico, che potrebbe essere, come me, una pallina di una finestra o di una porta. Braccio dritto e cominciate a molleggiare. Fate 30 molleggi spostandovi verso sinistra e verso destra. Finiti? Cambio. Prossimo esercizio, simuliamo il tiro. Gamba sinistra avanti, braccio destra dietro. Chiudiamo con l'addome verso il piede sinistro. Usiamo bene anche la rotazione del busto per chiudere bene poi con gli addominali. 10 e cambio. Palla sinistra, gamba destra e vado a chiudere verso il piede. Ora l'esercizio più divertente con la palla. Simuliamo il tiro. Trovate o un divano, qualcosa di morbido o una parete. L'importante è che non rompiate nulla dentro casa. E' importante in questo esercizio andare dietro, sfruttare la rotazione del busto e poi chiudere con gli addominali, l'avambraccio e il polso. Altro esercizio molto utile è quello di fare un sit up con rotazione e poi tirare. Ve lo mostro. Altro esercizio molto utile. Grazie. Grazie. Grazie.